Ed ecco a voi un nuovo video dedicato ai migliori bot per Telegram So benissimo e questa è una serie che mi piace davvero tanto Quindi supportatela anche perchè in questo video ho preso dei bot davvero molto molto interessanti Ed io di romperci in ulteriori cacchi e di partire subito col primo bot ovvero file converter File converter è un semplice bot che ci permette di fare delle conversioni tra file Che siano immagini, audio e video Quindi quasi tutte le conversioni possiamo dire In questo momento per il momento in cui sto registrando il video è offline il bot Però sappiate che voi mandate un'immagine o un video o un audio appunto a qualsiasi tipo di file E lui vi dirà se ad esempio hai un'immagine quale formato volete convertire l'immagine E tutto molto semplice poi invierà il file direttamente qui nella chat di Telegram Quindi non cercate più su internet convertitore, immagini, convertitore, audio Avete tutto qui con un solo bot su Telegram Quindi promosso a pieni voti questo bot andate a provarlo Il secondo bot in cui andremo a parlare invece si chiama file convert ed è sempre un convertitore di file Però a differenza del primo vi permette di fare solo una funzione No, in realtà vi permette di fare tante funzioni Però quella che ci interessa a noi, quello per cui utilizzo questo bot È la funzione che vi permette di convertire dei vocali di WhatsApp in dei vocali di Telegram Questo sapete cosa vuol dire? Aspettate adesso andiamo a inviargli un vocale di WhatsApp Eccolo qua, clicchiamo su condividi, clicchiamo a questo punto su Telegram Clicchiamo la chat file convert, gli inviamo il file A questo punto lui ci invierà il vocale come se l'avessi inviato su Telegram Clicchiamo e possiamo cliccare il tasto 2x Quindi cosa potete fare con questo bot? Ascoltare i vocali WhatsApp in 2x E questa è praticamente la salvezza Immaginate dei vocali lunghissimi che mi mandano di 3 minuti, 4 minuti ma anche meno E risparmiate davvero un sacco di tempo, davvero semplicemente inoltrando, condividendo un vocale da WhatsApp a questo bot su Telegram E poi passiamo ad un altro bot, questo qua forse è leggermente menutile No, leggermente, non è per nulla utile questo bot, va bene Però è molto molto interessante, si chiama Text2SpeechBot E vi permette di convertire dei messaggi in audio Adesso vi faccio vedere Scegliamo la lingua, mettiamo italiano Mettiamo la voce femminile o maschile, quindi mettiamo ad esempio Luca A questo punto siamo pronti per mandare il messaggio, mandiamo ad esempio Ciao Mario E lui vi manderà il messaggio vocale in cui dice Ciao Mario con una voce robotica Ciao Mario È la vita! Oppure possiamo fargli dire Viva Zucchina Viva Zucchina Vi lascio immaginare gli utilizzi Quanto può essere divertente utilizzare un bot di questo Ok, il quarto bot, adesso torniamo, è la parte utile del video Si chiama SoundCloud Downloader E, come dice il nome, vi permette di scaricare delle canzoni da SoundCloud Semplicemente copiate il link della canzone, glielo inviate E lui ve la manda così subito, velocissimamente sulla chat di Telegram Molto utile, esempio per i YouTuber che magari scaricano, come me Che scaricano la musica da SoundCloud Sappiate che potete scaricare la musica direttamente da questo bot Il prossimo bot invece si chiama SMS Gratis Cosa vi permette di fare? Anche qui dal nome si capisce Semplicemente vi permette di inviare dei messaggi in modo gratuito Semplicemente dal bot voi cliccate su Invia un SMS Vi dirà Invia ora il numero a cui mandare l'SMS Qui vi dirà il testo che ci deve essere contenuto nel messaggio E lui lo invierà così, gratuitamente Una cosa davvero, devo dire, molto, molto legale Il prossimo bot invece si chiama Sticker Converter Sappiamo tutti che comunque fare sticker su Telegram è più difficile rispetto che su WhatsApp Però sono più qualitativi Sono più organizzabili Un pacchetto di sticker ne può cantare fino a 300, non mi ricordo quanti Comunque su WhatsApp sono più limitati, meno qualitativi Insomma, su Telegram sarebbero meglio se ci fosse un modo più veloce per creare degli sticker Ed effettivamente un modo abbiamo trovato C'è questo sticker converter che è un bot in cui voi inviate un'immagine E lui ve la ridà in un'immagine che è perfettamente compatibile con gli sticker Poi voi a questo punto questa immagine la dovete mandare al bot Che vi permette di fare gli sticker su Telegram Per chi non sapesse come si fanno gli sticker Vi invito a leggere la guida che vi ho lasciato sotto in descrizione Comunque questo bot vi velocizza un sacco la procedura Il prossimo bot si chiama Analisi Logica e Grammaticale E lo dice pure in nome, vi permette appunto di fare l'analisi logica, grammaticale Di qualsiasi frase che voi inviate Purtroppo funziona solo con l'italiano, non funziona con il latino Quindi questo qua vi avrebbe salvato tantissimo Ma vabbè, accontentiamoci perché potrebbe essere utile a molti Quindi voi semplicemente inviate una frase Potete fare grammaticale e vi dice non è avverbio Funzione è verbo, l'articolo Poi c'è quella logica e quella del periodo Quindi dice principale, subordinata Insomma è davvero fatto bene, tutto quello che vi dice è giusto Quindi ragazzi vi direi di andarlo a salvare subito questo bot Perché potrebbe essere davvero molto utile in tantissime occasioni A scuola, dov'è che potrebbero essere utili cose del genere Ovviamente solo a scuola Il prossimo bot invece si chiama Dropmail.me È un bot, uno di quelli che vi fanno le mail temporane Perché io già vi avevo consigliato un in passato Ma ormai tutti non funzionano, non funziona più niente L'unico bot che funziona, che vi dà le mail temporane E questo qui, Dropmail.me, fate get e vi invierà la mail Tutto questo e come funziona il bot È davvero molto semplice Però è l'unico che funziona quindi Vi avviso che questo qua è attualmente il migliore bot Che vi dà le mail temporane Il prossimo bot invece si chiama YouTube Notifier It Cosa vi permette di fare? Vi permette di ricevere le notifiche Di un determinato canale YouTube che voi inserite Ma non è tipo la campanella delle notifiche Quindi serve diciamo che per avvisare tutti gli utenti O di un canale o di un gruppo Semplicemente qua con questo bot Che ve lo fa in automatico Come vedete due minuti dopo l'uscita del video Ho scritto un nuovo video disponibile Se vedete per avere un bel profilo di Instagram Ok Poi aggiunge pure i tasti guarda, iscriviti Tutte cose molto utili Che per i YouTuber O per chi ha magari un gruppo Telegram Un canale Telegram Potrebbe essere molto utile E adesso io in teoria gli dovrei dare L'ultimo bot di questo video Perché siamo arrivati a 9 Ma quando mai ho fatto una top 10 Che effettivamente ha 10 bot oppure applicazioni E quindi niente ragazzi Per questo video è tutto Io mi piace se ci sono visioni Mi raccomando iscrivervi Attivando la campagna Lasciando un like e un commento Noi ci vediamo In un prossimo video Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo